Ciao, io sono Mio, io sono Mia, ed io sono Meo, e questa è la nostra famiglia! Sembra che qualcuno non stia molto bene, chissà chi è che ha questa brutta tosse? Mamma mia che tosse forte hai, Tommaso! Ricordi, anche il tuo amico Luca nei giorni scorsi si è ammalato, stessi sintomi. Tommaso, prendi questa medicina e ti farà passare la tosse! Mio, ma lo sai benissimo che tu non puoi dare una medicina! E perché? Perché non tutte le tosse sono uguali, e per trovare la cura giusta per lui, diciamo alla sua mamma che lo porti dal pediatra! Giusto, Mio, così il pediatra visitandolo potrà dargli la cura che lo farà guarire! Mio, come si arriva la cura? Grazie a tutti! Grazie a tutti! V面. Vem. 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 Grazie a tutti.